Buongiorno ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo ad affrontare una questione molto delicata, molto spinosa, è quella che riguarda Dusan Vlaovic. Ma non solo, perché ovviamente di conseguenza di riflesso andremo a parlare anche di altri giocatori della Juve. Però di Vlaovic dobbiamo parlare, per forza di cose. Abbiamo già parlato in realtà, però dobbiamo tornare sull'argomento e guardarlo anche da una seconda prospettiva, perché dal punto di vista sportivo, ve l'ho detto, in questo momento, oggi, mentre sto registrando, dopo la prestazione brutta, poco convincente, nel quale è stato sostituito a fine primo tempo di Juventus-Napoli 0-0, la stagione di Vlaovic non è iniziata nel migliore dei modi, per nulla. Ricorderete anche il mio post partita di Juve-Como, dove vi dicevo che sì, aveva fatto quel gol in fuorigioco dove non era colpa sua, ma in generale il contributo di Vlaovic alla manovra non mi era piaciuto. E mi ricordo che tante persone dicevano, ma no dai, ha fatto una buona partita, eccetera, eccetera. Per quella che era l'approccio della Juventus-Napoli, invece, l'avevo visto ancora una volta, anzi per la prima volta, come un pesce fuor d'acqua. Stessa cosa che si è riproposta poi successivamente. Ma non tanto per un discorso soltanto limitante tecnicamente o tatticamente, anche proprio per un atteggiamento di Vlaovic che non mi è mai sembrato al 100%, mentalmente. Ma di questo abbiamo già discusso, sappiamo che è un attaccante umorale, sappiamo che, come tutti gli attaccanti, ha dei momenti sì e dei momenti no. È ovvio che se andiamo a valutare quest'inizio di stagione di Vlaovic, è un inizio di stagione non sufficiente, che deriva anche dal fatto che all'interno del reparto attaccanti della Juventus non ha competizione. Perché Milik è desaparecido, se qualcuno sa dove è finito Milik, chiami il mercoledì prossimo chi l'ha visto, così cerchiamo di fare un servizio pure su di lui. La Juventus non ha chiuso Sancho, che poteva diventare un'opzione, anche in emergenza, per sostituire Vlaovic. E quindi ci ritroviamo con un parco attaccanti molto, molto, molto spoglio. E con Vlaovic, che è l'attaccante di riferimento, che sembra non trovarsi per nulla a suo agio in un concetto di squadra come quello che è in testa Tiago Motta, perché lui non è un attaccante associativo per nulla. Io ve lo dico da mesi. Ricorderete già i video del calciomercato, in cui dicevo attenzione che Vlaovic e Bremer saranno i prossimi due giocatori messi fuori rosa dalla Juventus, messi sul mercato più che fuori rosa. Ecco, questo è un po' la mia idea. Se su Bremer inizio a fare un po' retromarcia, perché oggettivamente questo rinnovo di contratto che c'è stato di recente, il fatto che Bremer sembra trovarsi molto bene alla Juve, il fatto che Bremer sembra essere uno dei protetti di Tiago Motta, il fatto che sia stato anche capitano in occasione dell'ultima partita, mi fa dire ok, la situazione Bremer è stata sistemata e quindi si va in un'altra direzione, che poi ci sia la possibilità di una cessione con la clausola, questa clausola che si attiverà dalla prossima estate, che non si è capito se è stata rimossa sul secondo rinnovo di contratto, eccetera, eccetera. Qui possiamo parlarne finché vogliamo, non abbiamo certezze su questa cosa, quindi direi di fare un passo in avanti. Di certezze abbiamo assolutamente Dusan Vlaovic, che diventerà un problema per la Juve, non solo in campo ma fuori dal campo. Perché io rimango della mia idea, io sono convinto che Vlaovic quest'anno in Serie A almeno 20 gol li farà, che per la sua storia non sono pochi. Basti pensare che nella stagione in cui veramente esplode a Firenze, dove non ha terminato la stagione, ma quella prima, quella conclusa soltanto con la Firenze, ha fatto 21 gol e non ha vinto il capocannoniere perché Ronaldo ne ha fatti quasi 30, 29 mi pare, una roba del genere. Quindi da quel punto di vista per Vlaovic 20 gol in Serie A sarebbero tanti, a maggior ragione, visto le ultime annate in Serie A, dove c'è stata una sorta di marcia indietro anche nei confronti dei numeri spaventosi che avevamo qualche stagione prima, mi ricordo appunto quello di Ronaldo, i vari Immobile, Muriel, che facevano veramente tantissimi gol. Nelle ultime stagioni c'è stato un po' un abbassamento e i giocatori arrivavano 24, 25, 26 gol al massimo, una roba del genere, gli attaccanti, con Lautaro che si fermava quasi sempre sui 20. Quindi capite bene che raggiungere 20 gol in Serie A, rigori compresi, punizioni comprese, eccetera, eccetera, per me sarebbe un buonissimo traguardo per Vlaovic. E io sono convinto che ci arriverà, che concluderà questa Serie A con almeno 20 gol segnati o giù di lì. Io nella mia previsione avevo fatto 21. Però poi si apre un altro discorso, perché oggi il problema Vlaovic non va guardato soltanto da quanti gol farà, si trova a suo agio con Tiago Motta, mentalmente pronto, eccetera, 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 no, il punto è un altro. Ne abbiamo anche già discusso tanto in realtà, però bisogna veramente cercare di comprendere la 360 gradi. Dusan Vlaovic è un calciatore che guadagna troppo per la Juventus. In sede di acquisto del calciatore è stato fatto un contratto folle, a salire con delle cifre fuori dal mondo. La Juventus oggi ha delle altre priorità dal punto di vista non sportivo, bensì economico. Quindi Dusan Vlaovic è destinato, ma veramente destinato, a diventare un caso. Ci sono due strade. Rinnova o non rinnova? Ok? Se non rinnova 99.9%, perché poi nel calcio non si sa mai, questa estate diventa un problema per la Juve e viene fatto di tutto per scaricarlo e trovargli un'altra sistemazione. Se rinnova e si parla di un incontro con gli agenti a dicembre, si va a diramare ulteriormente questa cosa, perché oggi Vlaovic per me è un giocatore che dovrebbe guadagnare 5 milioni di euro all'anno all'interno di questa Juventus. So che è brutto parlare di soldi e fare i conti in tasca ai giocatori, però non è quello il punto. Non voglio fare quello, voglio più analizzarla dal punto di vista della Juve. È ovvio che passare da 12 milioni a 5, perché mai dovrei farlo? Quindi io non sono proprio ottimista dal punto di vista del rinnovo contrattuale di Vlaovic. Quindi secondo me tra rinnova e non rinnova, si va più nella direzione non rinnova ovviamente al ribasso, spalmando tutto quello che volete, però lui dirà, beh, quei soldi a me spettano, perché mai dovrei passare da 12 a 5? Perché avete problemi, mi dispiace per voi, a me non importa. Se invece dovesse rinnovare al ribasso con una magia, non si sa per quale motivo, eccetera, eccetera, si va in un'altra direzione. E cioè quella in cui comunque la Juventus poi a fine estate, anzi inizia estate, a fine stagione, potrà mettersi lì e ragionare su un punto di vista sportivo. Perché una volta sistemato il punto di vista economico, poi entra in gioco la domanda. Mattia Gomotta sarebbe nuovamente felice di lavorare con Vlaovic su un altro anno? Oppure avrebbe necessità di andare a prendere un'altra tipologia di attaccante? Ora qualcuno mi dirà, è ancora molto presto per parlarne? Sì, avete ragione, ma dall'altro lato dovete ragionare che se l'incontro con gli agenti di Vlaovic sarà a dicembre, quindi dicembre capiremo se rinnoverà oppure no, o magari ci sarà un inizio di una telenovela che potrà andare avanti, ricordate Di Bala, ricordate Chiesa, sono stati casi che sono durati tanti 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 mesi. Nel frattempo le altre squadre possono muoversi. Jonathan David de Lille, che scade al 30 giugno 2025 e dal primo gennaio può firmare gratis con chi vuole. Quanti soldi posso offrire a Jonathan David? Quale prospettiva di titolari posso offrire a Jonathan David? Se Vlaovic non rinnova, io posso anche dire, d'accordo, ti propongo di venire a fare l'attaccante titolare della Juve. Se Vlaovic rinnova e devo ragionarci poi a fine stagione anche in base a come è andata l'annata di Vlaovic, a come si è trovato Tiago Motta con questa tipologia di attaccante, eccetera, eccetera, magari arriva un'altra squadra che a Jonathan David fa una nuova proposta allettante, lì nero su bianco, basta firmare e va a sposare il progetto. Cioè capite che poi entra in gioco anche un discorso di incastri. Nelle ultime ore si è parlato tanto di Osimena alla Juve. Io non ho idea se possa essere fattibile o non fattibile. L'anno scorso era impossibile, c'erano anche delle clausole anti-Juve. Non mi stupirei di vederle rimosse dopo questo rinnovo contrattuale, prima di partire alla volta della Turchia, perché oggettivamente se c'hai delle clausole anti-Juve in Italia vai a bruciarti completamente il mercato italiano. Nessuna squadra in Italia può permettersi Osimena, nemmeno la Juventus può permettersi Osimena. Ma è anche vero che piuttosto che crearsi un danno in casa con un giocatore con quel valore che non va da nessuna parte perché anche quest'estate Osimena era sul mercato e non c'è stata tripa per gatti. Allora accetto anche il fatto di vederlo a Juve abbassando anche un pochettino la richiesta economica di 100 milioni famosi che abbiamo chiesto quest'estate e quindi può nascere l'incastro, la possibilità eccetera eccetera. Io non lo so. Sono clausole, sono ragionamenti e poi anche qui troppo precoci perché parlare di calcio mercato ovviamente al 26 di settembre mi cadono anche i cosiddetti per terra e fanno un rumore anche abbastanza importante. Quindi queste sono fantasie, sono incastri. Nelle ultime giorni ho ricevuto tantissimi commenti. Perché non parlo di Osimena la Juve. L'ho fatto in questo minuto per farvi comprendere il perché non l'avessi fatto prima perché non sono andato a dedicare un video intero dedicato alla questione. Quindi queste sono le prospettive, gli scenari perché Vlaovic per la Juve, cioè se dovessimo chiedere oggi a Giuntoli qual è la tua preoccupazione principale per Vlaovic? Non è il giocatore perfetto per Motta, non è non fa gol, non è sbaglia i gol, è come lo gestisco con questa situazione che mi è rimasta in mano, questa patata bollente di un ingaggio fuori dal mondo e non stiamo nemmeno parlando dei costi di ammortamento del cartellino che sono importanti ovviamente. Quindi Vlaovic è un giocatore che alla Juventus ogni anno costerà più di una trentina di milioni di euro. La Juventus non può mettersi a costo di gestione con stipendio lordo, stipendio netto e ammortamento del cartellino una trentina di milioni, forse anche di più perché bisognerebbe andare a vedere esattamente quanto costa Vlaovic alla Juve ogni anno. È una cosa che la Juve non può permettersi in questo momento e quindi bisognerà per forza trovare una soluzione. Nel frattempo io vi dico che non sarei per nulla stupito, e quando dico per nulla intendo veramente per niente, cioè ci sarebbe zero stupore in questa cosa, nel vedere qualche partita e magari anche già adesso con Tiago Motta che va a lavorare su delle soluzioni alternative. Prima abbiamo detto assenza, assenza di alternative nel reparto, tant'è che per togliere Vlaovic mettiamo Weah, che si ha già fatto la punta anche in America, che tanti anni fa faceva la punta. Però non mi sembra per niente il giocatore ideale per Tiago Motta, nonostante due o tre bei movimenti secondo me che sono visti nel secondo tempo, non è quel giocatore di raccordo che cerca Tiago Motta lì. Tiago Motta ha spiegato che non vede bene Nico per un discorso legato al gioco aereo. Nico è bravo ad andare ad attaccare il secondo palo a dei buoni tempi e quindi preferisco lasciarlo lì perché quando corsiamo da sinistra Nico può andare a chiudere. D'accordo, ok, e allora chi ci metti? Allora io vi dico che non sarei ma davvero per niente stupito di vedere Ildis come falso 9. Non è un 9, non ci va nemmeno vicino. Però ricordatevi qual era la funzione di Zirze dell'anno scorso. Esattamente quella. Andare a dialogare con i compagni, andare a svuotare il centro dell'area, permettere l'inserimento di altri giocatori e avere comunque un giropalla fluido con un giocatore molto tecnico lì. L'unica differenza sarebbe fisica, non tanto dall'altezza perché anche se non sembra Ildis è un giocatore molto alto. Lo so che molti sono stupiti, ne parlavo anche l'altra sera con i miei amici alla YouTuber League di questa cosa perché ce l'ho in testa e tutti mi dicevano ma Ildis è troppo basso, è più di un metro e ottanta, abbondantemente più di un metro e ottanta. Quindi non è quello. Fisicamente sì, è molto gracile, peserà dieci chili da bagnato, d'accordo, e quindi lì bisognerà lavorarci. Però sono convinto che quel venire incontro, gestire il pallone, farlo girare, essere associativo per la squadra a Ildis lo possa fare. Lo possa fare. Poi se mi dici Ildis da numero 9 della Juventus interpretato a modo suo ti fa 20 gol? No. Vlaovic sì. Perché al di là dell'interpretazione bisogna capire se a Tiago Motta importa di più. L'interpretazione del ruolo per migliorare o eoliare i meccanismi della squadra può avere la possibilità poi di andare a finalizzare. Perché è ovvio che in quel ruolo Vlaovic andrebbe a finalizzare più di Ildis. Credo che su questo siamo tutti d'accordo anche i detrattori di Vlaovic. Spero, perlomeno. Perché io almeno la vedo così. Poi aspetto la vostra opinione qui sotto nei commenti. Dal punto di vista di qualità della manovra e di imprevedibilità, anche se vogliamo, e anche proprio come orchestra che suona la melodia perfetta, io Ildis ce lo vedo in quella posizione. E come se ce lo vedo? E andrebbe ad aiutare pure Cobmeiners, secondo me. Perché Ildis che viene incontro, svuota la possibilità di andare ad inserirsi in area e quei due giocatori che fa le mezze ali ma che dovrebbero fare trequartisti, potrebbero andare a nozze. Così come Nico che potrebbe entrare dentro il campo per andare a prendere anche quel cross dei test di cui parla Tiago Motta. Quindi secondo me queste sono delle buone opzioni. Anzi questa. Perché di una abbiamo parato Ildis falso 9. Io ci vedo bene anche Nico, sono sincero. Anche Tiago Motta l'aveva già provato con la Roma quei nove minuti in cui ha sostituito giustamente Vlaovic. Perché Vlaovic è già a due sostituzioni stagionali senza avere praticamente rivalità, competitività nel reparto. E questa non è una notizia ma deve diventarlo. Perché significa che comunque per quanto Tiago Motta stia facendo un lavoro perfetto ai microfoni nella protezione di Vlaovic. Carica, energia, felicità, eccetera, eccetera. Poi però sarà la possibilità di togliere o lo toglie. E a volte anche a fine primo tempo. E sono cose che fanno rumore, non potrebbero fare altro che rumore ed è giusto così. Quindi queste sono le mie considerazioni dal punto di vista economico e dal punto di vista sportivo. Ora bisognerà capire dove la Juventus andrà a parare. Tiago Motta avrà la voglia di provare a lasciare fuori Vlaovic e giocarsela con Ildis contro il Genua che tra l'altro è stato eliminato ieri sera dalla Samp in Coppa Italia. Oppure si andrà avanti con Vlaovic e Vlaovic sarà disposto a venire incontro alle esigenze economiche della Juve? Ancora troppo presto per parlarne, ma intanto gli scenari li abbiamo buttati sul tavolo. Ciao a tutti ragazzi.